Ora passerei alla priorità del capacity building, viene interrotto dal Presidente, sta leggendo una lista di cose che farete, molti deputati sono qui presenti, però alcuni dovranno andarsene tra poco, perché siamo alla fine della giornata, vicini alla Pasqua, lei ci ha fornito un'analisi della relazione, quindi potrebbe magari concludere per poi lasciare tempo ai deputati, abbiamo una lunga lista di interventi, Frontex è una questione rilevante, quindi vedo i colleghi che si stanno stancando, quindi si può concludere per poter poi lasciare spazio alla discussione, quindi concludo e poi partiamo con la discussione.